Ben trovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di sabato quando ritroveremo un maestoso campo di alta pressione che dall'Oceano Atlantico raggiungerà gran parte dell'Europa. Quindi inverno, quello vero in stand by, non solo sull'Italia ma anche gran parte dei paesi dell'Europa centrale. Nel dettaglio possiamo notare la mappa delle precipitazioni, una giornata con ancora qualche locale fenomeno sulla Sicilia tirrenica e l'Appennino meridionale, miglioramento comunque già nella seconda parte del giorno via via anche qui. Al centro nord invece aumenterà la pressione notevolmente. In sintesi la mappa dell'Italia, possiamo notare appunto c'è di segni un po' cumulosi dappertutto, a parte qualche incertezza in mattinata sulla Sicilia e sull'Appennino meridionale. Ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo o sul nostro sito web.